Si è concluso il bando lanciato dalla Camera di Commercio di Napoli per sostenere l'economia dei comuni della provincia partenopea e le relative prologo territoriali. Diverse le istituzioni e le organizzazioni di categoria risultare assegnatari di un ausilio finanziario per promuovere i loro territori attraverso iniziative entro il prossimo 31 dicembre. Soldi in arrivo anche sulle isole. A ricevere un contributo di 25 mila euro sono i comuni di Serrara Fontana, Ischia, Barano e Lacquameno. Stessa cifra anche per l'isola di Procida mentre al comune di Anacapri vanno 23 mila e 500 euro. All'Acquameno a ricevere un contributo di oltre 9 mila euro è anche la prologo di zona. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Napoli Fabrizio Luongo. Il bilancio è sicuramente positivo proprio perché rimarca una volontà della Camera di Commercio di Napoli a puntare non più non solo sulla città ma su tutta la provincia di Napoli cercando di valorizzare le iniziative territoriali che sicuramente sono vicine alle imprese ramificate sui singoli comuni. Sono tanti i comuni e tante le prologo che hanno aderito e che riceveranno il finanziamento. A brevissimo la Camera di Commercio pubblicherà sul suo sito, sui social, una mappatura generale. Quindi una sorta di cabina di regia che renderà partecipe tutta la cittadinanza delle tante iniziative che si svolgeranno sul territorio. Quindi le sagre, le mostre, i mercatini di Natale, il Comune che ha scelto di fare l'illuminario, la prologo che ha scelto di fare il convegno, proprio per un coordinamento generale. Tutte iniziative che dovranno terminarsi entro il 31 dicembre. Sì, sono fondi 2019. Il Presidente Fiola, la Giunta, probabilmente sta valutando già adesso un bando similare da realizzarsi nel periodo di febbraio-marzo, al fine di consentire una maggiore diversificazione, non soltanto nel periodo natalizio, ma appunto per una destagionalizzazione turistica, per iniziative del Maggio dei Monumenti, per l'aspetto invece estivo, anche per il Natale 2020, programmato per tempo. Per il bando in questione è stato forte l'impegno della Camera di Commercio, qual è la cifra che avete stanziato? Un milione e mezzo di euro, di cui 300 mila euro erano destinati al Comune di Napoli per fare un'attività di luminarie. Vedremo come valorizzare al meglio tutti i comuni, proprio per una diversificazione e una valorizzazione del territorio. Ad aderire anche i comuni delle isole di Napoli, Anacapri, Procida e tutti quelli dell'isola d'Ischia, ad eccezione di Forio e Casamicciola? I comuni delle isole sicuramente hanno un'attenzione che non verrà meno da parte della Camera. I Presidenti, i componenti della Giunta, del Consiglio saranno sicuramente presenti per portare il loro saluto, la loro attenzione e valorizzare queste tante attività, soprattutto quelle delle isole che soffrono un distacco e un problema anche logistico e quindi va valorizzato.